Se questo virus si comporterà come il virus del raffreddore, noi non avremo bisogno di questo vaccino. Cioè, scusa, tutti i vaccini contro l'influenza? No. Vabbè, no, vaccinatevi. Tutti, vaccinatevi. Vaccinatevi. Troveremo mai un vaccino, non troveremo forse una cura, per cui sarà come un'influenza. Potremmo produrre un vaccino, ma io le chiedo, dottoressa Gruber, ma se non ci si vaccina perché influenza? Ma secondo voi ci si vaccinerà per un virus che nella stragrande maggioranza dei casi è asintomatico? No, forse si vaccineranno le categorie a rischio, le categorie più fragili, se ce ne sarà bisogno. Un ultimo suggerimento per quello di vaccinarsi con un po' dell'influenza, perché di un virus è specchio umano. Se ti prendi una po' infezione da influenza, da coronavirus, è sicuramente più grave che se ti prendi solo uno. Questo virus potrebbe diventare il prossimo virus del raffreddore umano e quindi non ci sarà neanche bisogno di un vaccino. Grazie.